Allora, nella nostra centattima partita in Serie A, giurita al daybreak, quanto ramari col tempo a questo punto? Tanto, perché la partita l'abbiamo mutata via noi, eravamo avanti 2-0, ok il terzo set loro hanno reagito, però poi dovevamo ritornare in campo con la stessa cattiveria e la stessa gritta dei primi due set. Poi sicuramente loro hanno anche i loro meriti, hanno giocato bene dopo, ma secondo me abbiamo mollato dalla nostra parte, siamo stati noi oggi a perdere la partita. Non sei quanto pesato, però l'assenza di alternative in partita. Sì, sicuramente quello non ci aiuta, però quando uno scende in campo deve scendere da sempre al 100% ogni momento. Oggi abbiamo fatto un po' troppi errori, quindi dobbiamo sicuramente migliorare su questo. Poi ovvio, siamo un po' sfortunati in questo periodo, però le squadre forti nescono anche nei momenti difficili, quindi ne usciremo, che ci serve un po' da lezione. Nel quarto set si è arrivato fino al 20 pari, poi cosa è molto importante, ha fatto la differenza? Non lo so, forse avevamo paura di vincere, non saprei dirti. Poi a caldo non va mai bene parlare perché non si è molto lucidi, quindi loro sicuramente sono stati più bravi, hanno avuto più voglia di vincere.